L'incidente nella serata di giovedì 20 maggio intorno alle 21.30 in via Caporal Cattaneo a Fabria. A scontrarsi un Volkswagen T-Roc e una Peugeot 1.7. La Peugeot si è adeggiata su un fianco mentre il T-Roc ha fermato la soccorsa in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese, levemente contusi i conducenti che sono stati medicati dagli operatori della Croce Rossa e Castellamonte giunti sul posto. La dinamica al vaglio dei carabinieri della compagnia di Ivrea. La via è stata chiusa al traffico il tempo necessario ai rilievi dei carabinieri e all'operazione di rimozione dei mezzi. Il città il in Grazie per la visione!